E ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki E io sono Stef, che si è Gmgmod E oggi siamo qui su Gmod con una nuova modalità Ovvero guardie e ladri Che ovviamente non si può giocare solo in due E giocheremo in compagnia di Espigiochi e Luca Esattamente, regole molto molto semplici C'è una guardia, ci sono tre ladri La guardia deve imprigionare I tre prigionieri, ovviamente Cercando di tenerli lì, ma i prigionieri Tra di loro si possono liberare Quindi l'obiettivo dei prigionieri sarà Soprovvivere per quattro minuti, mentre l'obiettivo Della guardia sarà quello di imprigionare Tutti e tre in contemporanea In modo da vincere il round, abbiamo scelto una prigione Davvero bellissima E gigantesca e il video è davvero Fantastico, buona visione Mi hanno lasciato solo Mi hanno lasciato solo, non è giusto Vai, 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 vai Corri, corri, corri Espy Non provare a scappare Espy Sì Marca miseria Ha già preso Steph? Sì, mi avete lasciato solo E ci puoi contare che ti lasciamo solo Ciao Steph Ti piace la tua nuova gabbietta? Espy Ti piace? Guardami, guardami in faccia Io di che te la spacco in faccia Li vedo, li vedo È diventata palla vellenata È preciso come tiro, lasciami in pace Giochiamo a colpisci Espy Guarda, scappa via Scappa via Non tirami le palle addosso Devo beccare i tuoi amichetti Non mi interessa Qualcuno venga a salvarti Steph, guarda qua Dov'è? Come Steph? Dov'è? Dov'è? Ah, ok Ti sta trollando Ti sta trollando Si, ti ho visto Luca Non guardo verso di te così Non capisce dove siete Però so dove siete Ok Che adesso ti liberiamo Pronto Ok Tengo a soccorrere Dove sono finiti? Attenti ad Espy Attenti ad Espy Non so che mi state trollando Inutile che ci provate Allora È spiendato Tipo nelle docce In un posto del genere Arriviamo Vai, 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 vai Attento Luca Attento Luca Cosa? Oddio Grazie Vieni qua Vai, 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 vai Oh sì, l'ho preso Corro Venite qua voi Oh guarda qui Vieni qua Vieni qua Steph Ora rimani soltanto tu Sì, sei rimasto solo tu Per salvarsi I ruoli si sono invertiti Piccolo Steph No Steph No Dai, non aver paura Oh Qualcuno si è bloccato Sulla scala Espy, ti prego Fammi scappare Dai Dammi qualcosa in cambio Steph Allora, aspetta Aspetta Cosa vorresti? Mi offre una divinità Questa Questa ti offro Questa Ah, ah, ah Non farlo Mi hai detto Mi hai ingannato Vieni qua Aiuto Non provarci Non provare a scappare No, sono finito in bagno Guarda che sei entrato Il bagno delle signore Dannazione Scappa, scappa Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Mi sto scappando Mi salvo Corri Mi salvo Vai, vai Scappate Scappate Vai, 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 vai Per i nichi No Per e scappa Per e scappa Per e scappa Per e scappa immediatamente Che cosa sto facendo Secondo te Dove sei? Dimmi la zona Dimmi la zona Luca Vai Luca, Luca Corri, corri Pazienza Corri Accidenti Ma ci siamo bloccati Che vi siete fatti prendere entrambi? Ti tiro le palline in testa Cioè vi siete Mi avete lasciato di nuovo solo? Sì Io volevo liberare Luca Stef, dove sei? Espi Sono dove ci sono le macchine Oh, arrivo Vai a far investire un attimo Rimani fermo lì? Sì, sì Rimango fermo Tranquillo Dove sei? Chissà Espi Vinco in dieci secondi Dall'azione Dall'azione Scappate 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 Prendimi Luca Corrette Corrette No Non ci credo Preso Ferri Ferri devi scappare Ferri devi scappare Abbiamo praticamente Vinto No Mi sono nascosta nelle celle Questo è stato epico Questo è stato epico Non avevate visto sbucare dalle scale lì sotto prima? Io ti ho visto Ti ho visto perché sapevo dove eri vedendo il tuo schermo Quindi Aia Oh no Come si piazza la prigione? Non vorrei fare una figuraccia Con il tasto destro Non lo so Devi cambiare l'arma e mettere il tasto destro Un ritardato Ok Grazie Ferri Sì hai rotto la porta Hai rotto la porta Non ho rotto la porta Io non ho rotto la porta Che ha rotto me Cioè proprio ogni cosa Che tocca a espi si rompe Perché Io non vorrei capire Ha un talento naturale Che tocca a espi Finisce male Ha un talento naturale espi guarda Dà sempre fastidio Ok Aspetta Aspetta Nota qualcosa Ma dove mi siete cacciati? Da nessuna parte Ok Ok Eccolo Diversità Lancia No No cavolo Non vedo più nulla Ma dai No ragazzi Ragazzi non vale Questo cavolo di fumo Non capisco come uscire dalla stanza Erano pronti lì per quando saresti entrato Arrivo 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 Sono esploso Pure io Siete stati trollati? Sì ci ho fatto andare in un posto Ci ho trollato malissimo E se ho esplosito Mi sono volato dall'altra parte Così imparate a fidarvi di Luca Ve lo siete meritati Mi avete fatto fare una figuraccia come guardia Mi hanno licenziato E sono tornato ad essere un prigioniero Ottimo Espi Vai lì dentro Che succede? Dobbiamo farti la macchina Il test della verità Vai dentro Vai dentro Dobbiamo vedere se stai mentendo Io dico sempre la verità No Espi Menti sempre Menti sempre Fa perdere tutti Vai dentro Vai dentro immediatamente Ma sicuri che non sia la sedia elettrica Vai dentro ho detto Ah Ok Chiudete Ok Iniziate il test Ma è veramente necessario tutto questo Per un test della verità Assolutamente Espi Non rompere Fagli la domanda Fagli la domanda Fai anche silenzio Allora Prima domanda Come ti chiami? Ah Espi Ok È vera Sta dicendo la verità Ragazzi sta dicendo la verità Sì è vero Qual è il tuo colore preferito? Sono troppo sicuro Ok Qual è il tuo colore preferito ho detto? Rispondi Ah Il Il L'ocro State intendendo Sta mentendo Allora 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 Luca Luca Sai cosa fare vai Ok è il magenta È il magenta Vai Luca Non portare il polcore elettrico Luca fallo Tutto ma non il polcore elettrico Ok Ok gli facciamo un'altra domanda No Un'altra domanda Se questa volta menti Ok Sei fregato Ok Che scarpe indossi in questo momento? Ah Ah Le ciabatte di Prada Ah Ragazzi Scappate immediatamente C'è Fere come guardia Ed è pericolosissima Finalmente Tocca a me Fere abbiamo impassato una cosa molto divertente Praticamente Cioè fate le cose alle mie spalle Cosa? Possiamo tirare le granate all'infinito Tutto il tempo Uh è vero Ci sarà tutto il tempo Granate Dai ma non è un round leale Però questo sì Io non vedo nulla Fere è giusto così Ok Non puoi No non è giusto così Non ti lamentare È giusto così Mi sto disorientando anch'io Lo so Espy Però teoricamente Lui non saprà più dove siamo Guardala guardala come corre Espy Mi sa che ha appena capito dove siamo Corri corri Espy nel dubbio scappa Via 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 Allora siete in questa zona Espy attento Però ovviamente non vedo nulla Questa accidenti Anzi di qua Attivo questa Sì Salve Che cavolo siete Dai Espy Faccio così Uh ma chi è che sta lanciando le granate qui in alto? Nessuno Buongiorno Ah oddio Espy era per Fere quella trappola porca miseria Vabbè rimettila rimettila Ok Cioè ma ti sembra che Espy è quello che Luca Sei in prigione e adesso sta pure liberando le persone Allora Ma come lo fai apposta a non saper giocare Fere vieni di sopra Ops No Dai 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 Fere vieni No Non succede nulla Vieni vieni No c'è una bomba No Fere guardami Non c'è nessuna bomba Vieni Vieni qua Mi state tirando le granate Chi è che ne l'hai giallata là? Aspetta però torno indietro e mi prendo No Torno indietro e mi prendo Scappate Scappate No Stef no Scappate Alcuno l'ho preso Espy si è incastrato Dai ma come fa a scappare così? Meno male che mi sto facendo la doccia Meno male che mi sto facendo la doccia Ciao Abbraccami Stef Stef abbiamo bisogno di una mano Tutti e due Eh beh decisamente Allora se siete tutti e due qua io allora devo solo aspettare che arrivi Stef No perché non vengo perché abbiamo vinto ormai Guarda il tempo No dove sei? Hai dieci secondi per trovarmi Fere Egoista Dove siete sgradiati? Quattro Tre Due Maledetto Bellissimo Bravi bravi Abbiamo vinto di squadra giusto ragazzi? Sì 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 un sacco Yeee Yeee Seguitemi Per una volta Seguiamo Venite qua Vai 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 Che idea hai Espy? Cioè io non mi fido troppo delle tue idee Mi sono perso un attimo Marci indietro Marci indietro Ecco qua ecco qua non sa neanche dove dobbiamo andare Nella vita che seguiamo un piano di Espy Iniziamo malissimo Prima ed ultima volta aggiungo pure ma non voglio dirlo Ho il nascondiglio perfetto venite qui Ok Adesso dovete scegliere se siete confusi parliamone Però io vado di qua Io vado di da destra ragazzi Dai ognuno nei suoi Mi sembra giusto Io vado con Fereni No dai sto scherzando vado con Stef Fere hai tenuta pronta una granata? Sì certo però secondo me non è molto utile Tieniti pronta con quella granata perché sarà l'unico modo per salvarci C'è una persona che non dovrebbe essere qua Bombe Scappate Iniziate a correre Iniziate a correre Corri 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 Sono fuori Mi hai vestito la macchina Ma dai Espy ma dai Fere viene a liberarci Fere viene a liberarci Cioè fate schifo Vi meritate di rimanere lì per l'eternità guarda Oh grazie Fere Ci siete davvero dei compagni No Attento Espy Dei compagni terribili Fere non ti lamentare siamo ancora vivi Eh io sono in prigione per colpa di Bola No Ma porca miseria Guarda cosa ti sto portando Che cosa Luca? Era un regalo ma è esploso Ah ok Ciao Stef fermo Grazie Espy Fermo Per una volta è utile Per una volta Per una volta è utile Ma come per una volta? Di sui fallimenti Sto recuperando Oh mio Dio mi sono perso di nuovo Ok Ti lascio andare se mi fai prendere gli altri due No No Espy Ci tradisce Espy Ci sta tradendo Ci sta tradendo Fere nasconditi Sì Mi fido dello scheletro Sì Ora lo facciamo Fere nasconditi Allora Vi veniamo a prendere Ok 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 Credi che le trappole funzionino sempre Stef? Sì esattamente Ed è finito anche il tempo No Vi ho tradito per nulla Ce lo ricorderemo Espy Ce lo ricorderemo Già Espy Hai fatto la scelta sbagliata Ce lo tatueremo addosso Proprio per non dimenticare Hai fatto proprio la scelta sbagliata Signore Espy La vorriamo corrompere Le piacerebbe avere questa scatola bellissima? Sì ma non essere così esplicito Diciamo che è un regalo Perché ti sto simpatico Va bene va bene Allora tieni questo regalo perché mi stai simpatico Tieni Forse forse lo posso accettare Però non dirmi niente al mio capo Ok Ok va bene va bene va bene Ok tanto lei è l'unica guardia quindi va bene Ora ci segua Abbiamo scoperto una cosa interessante per scappare dalla prigione Ok andiamo io mi porto dietro il mio regalo Però non lo dica al suo capo Non deve dirlo a nessuno Allora lei che conosce la prigione Di qua Qual è la via migliore? Ok perfetto Sicuramente conoscerà anche le vie di fuga Allora andate avanti perché se no non si può scendere qui Ok Io sto seguendo la guardia Molto profumato Sì molto Sì bello bello Probabilmente moriremo prima di riuscire a uscire Allora ok qua c'è una corda Si vede che sa la strada giusta avete visto? E qui dov'è che si va? Perché mi incastro? Signora guardia Dovrebbe dicerlo Perché mi incastro? Signora Fereniche ce la fa? No Tanto ci ha portato in un vicolo cieco ragazzi Come in un vicolo cieco? Sì In un vicolo cieco Sì ci sono delle grotte Putiamoci qua Mai fidarsi delle guardie Vai Fere Fate spazio Ci siamo tutti incastrati? Sì Perché siete sulla mia testa e ci siamo incastrati Ragazzi Salta Vedo anche l'uscita Vado vado Ok Andiamo Ok ce l'abbiamo fatta La luce in fondo al tunnel C'è una luce C'è una luce Ma stiamo scappando per davvero? Quella è la fuga Andiamo Vai Fere tu per prima Così se c'è qualcosa di cattivo Ah no ce l'ho fatta Oh che bello Siamo liberi Sì Sono morto Per la macchina Io ho avuto la decenza di spostarmi subito Cioè a voi ho preso in pieno Espi Non ci credo Vabbè io e Luca siamo fuori Siamo condannati a rimanere qui per sempre Ah no siamo tornati qua Ma come? Ma come? Perché mi va sempre tutto male Espi? Non lo so ma anche a me Siamo uniti dalla sfiga E dalla sfortuna volevo dire Direi che ci possiamo fermare così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Secondo me è una modalità davvero 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 divertente In questo momento vado a fare tramite una telecamera Ciao Aspetta un attimo che deve girare Ti dico quando salutare Ok 3, 2, 1 saluta la telecamera Ciao Ma devi salutare quel personaggio Non posso perché ho tabbatto il gioco Quindi non riesco a muovermi in questo momento Quindi non rompere Accontentati del mio ciao Criminale Comunque Allora ricordatevi di andare in descrizione Nel canale di HP Giochi E mi raccomando ragazzi Cercate di andare a mettere 2500 likes al suo video Perché è grazie a lui se abbiamo fatto questa modalità Perché ha sistemato Diciamo la modalità Insieme a Luca Insieme a Luca Dato che non funzionava Dava un bug incredibile Loro l'hanno sistemato E ci hanno permesso di registrarla E secondo me merita tantissimo Quindi andate a ringraziarli nel suo video E ci fermiamo così Ragazzi Lasciateci un like E questa è la prima volta che vi ho visto il nostro video Potete considerarli Di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao